Una buona notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori e contribuisce a guardare al futuro con fiducia la Fondazione Santissimi Cuori di Gesù e Maria di Boiano, reduce da mesi tribolati, passa di mano e ora sarà gestita dalla Serena Senectus SRL, società specializzata nei servizi per anziani che ha partecipato alla manifestazione di interesse per l'aggiudicazione della struttura. Preservati i posti di lavoro, così come l'anzianità di servizio dei dipendenti, inoltre la Serena Senectus provvederà anche a saldare i debiti retributivi e contributivi che facevano capo alla precedente gestione. Un grande risultato ottenuto anche grazie alla Caparbia e al lavoro svolto dai sindacalisti della Wiltux Molise e da quelli della Fisascat Abruzzo e Molise. Ieri c'è stato l'accordo sindacale dove i lavoratori passano tutti alle dipendenze della nuova società, la Serena Senectus, e gli vengono anche riconosciute le spettanze pregresse. Quindi quello che non è stato retribuito dalla Fondazione e quindi dalla Chiesa e quindi i lavoratori di Boiano che vedono non retribuite le proprie dovute mensilità, se ne è preso carico la nuova società e con un piano di investimento ridarà le spettanze a questi lavoratori già da subito. Questo è un fatto positivissimo anche perché c'è continuità lavorativa, i lavoratori hanno il posto di lavoro salvo e potranno continuare a lavorare finalmente, forse serenamente, sperando che la Chiesa da oggi in poi si occupa delle anime e non delle case di riposo.